Ma io vorrei che ciascuno di voi fosse qui sul palco a vedere questo spettacolo, lo spettacolo di una lega che ne ha passate di tutti i colori, ha attraversato le tempeste, ma oggi è qui orgogliosa sotto il sole delle Alpi che ci illumina e questo è un segno, un segno del destino. Io sono emozionato, devo dirvi la verità, il titolo di questa pontida è Un'altra Europa è possibile. Io vi parlerò un attimino invece perché quello che succede a Roma mi fa chiedere se un'altra Italia è possibile, la risposta che è impossibile. Non vi voglio dire, qualcuno di voi ha visto cosa è successo ieri a Roma, io vedo quello che quotidianamente noi siamo costretti a vedere nelle aule della Camera del Senato e vi parlo anche per Massimo Bitonci che non è qui oggi, non può essere qui oggi, perché tutto ha una spiegazione e quello che vedete oggi in Sicilia, ieri in questi giorni, l'invasione, trova delle spiegazioni che non sono le guerre e le persecuzioni, sono molto semplicemente la pazzia di chi approva delle leggi come quella che ci è capitata qualche settimana fa. Nello stesso giorno, nello stesso decreto legge abbiamo prima approvato l'eliminazione del reato di migrazione clandestina, cioè un messaggio a tutto il mondo che in questo Paese si può entrare tranquillamente serviti e riveriti perché questa è l'operazione Mare Nostrum e subito dopo l'articolo successivo abbiamo approvato la norma che stabilisce che per tutti i reati fino a 4 o 5 anni di reclusione, anche per i recidivi non c'è più il carcere. Qual è il messaggio? Che qui si può venire e si può anche delinquere impunemente tanto qui la Bengodi di tutti i delinquenti del mondo. Questo è il messaggio che questi pazzi mandano ed è incredibile come soltanto noi i venti disperati della Lega si mettono di traverso. Pensavo che avessimo toccato il massimo, invece no. Questa settimana abbiamo fatto ancora di più. Siccome nelle carceri ci sono 20-30 mila spacciatori per lo più estracomunitari hanno pensato bene di eliminare anche il reato di spaccio di stupefacenti. In Italia vendere droga fuori dalle nostre scuole non è più un reato. Questa è la capacità di un paese in cui adesso il Presidente del Consiglio non è eletto da nessuno fa le operazioni d'immagine. Io non vi parlo di altro, qualcuno parlerà magari più approfonditamente della legge Fornero. Io vi tocco soltanto un aspetto della legge Fornero, perché non basta dire che si è vicina alle donne candidando capolista tutte le ragazzine. Noi pensiamo ai milioni di donne che non possono accedere alla legge, grazie alla legge Fornero, alla pensione, che hanno lavorato e mantenuto i figli e chi ha approvato la legge Fornero, chi ha negato il diritto alle donne di andare in pensione. E anche su questo prato ce ne saranno sicuramente migliaia che si trovano in questa situazione. Non basta mettere capolista alle donne, fare le quote rosa per dire che siamo vicini alle donne, bisogna essere vicino alle donne, madri di famiglie lavoratrici. Per questo non è possibile un'altra Italia. e guardate che tutto quello che stanno preparando, poi ve ne parlerà credo meglio di me Calderoli, l'operazione di delegittimazione prima sulle province e ora sulle regioni, che culminerà con la revisione del titolo quinto per negare la possibilità alle regioni di avere anche quei poteri faticosamente conquistati con il federalismo in questi anni. E questo è il processo, perché il processo provvede l'eliminazione di qualsiasi possibilità per il popolo di esprimersi. Abbiamo governi non eletti da nessuno ormai da qualche anno, abbiamo il governo europeo non eletto da nessuno, abbiamo una moneta, l'Euro, mai votata da nessuno dai popoli, perché come sapete il referendum, la consultazione del popolo su queste materie troppo importanti non è possibile, perché il popolo non capisce, perché il popolo decremoticamente non può decidere ed è quello che è avvenuto in questi anni. anni, oggi quando nelle trasmissioni proponiamo l'uscita dall'Euro, la risposta qual è? E' uscire non si può, non si doveva entrare, ma chi ha votato contro l'ingresso dell'Italia nell'Euro? Solo la Lega! Chi ha votato contro il fiscal compact? Solo la Lega! Questa è la verità della storia. e allora vi voglio dire, per chiudere questo mio intervento, guardate il processo non democratico che permette di governare l'Italia e l'Europa, ci dà solo poche possibilità e due sono le possibilità che avremo nel prossimo futuro. La prima, non è possibile fare il referendum sull'Euro perché lo vieta la Costituzione della Repubblica Italiana. Voi avete la possibilità il 25 di maggio di fare il referendum sull'Euro votando no e votando la Lega Nord. Quella è la possibilità e la gente deve capire che il referendum che ci è negato dalla Costituzione passa attraverso le elezioni europee. E la seconda tappa ce l'hanno in mano e parleranno dopo. Zaia e Maroni. Zaia e Maroni perché loro sì hanno in mano l'arma del referendum. del referendum per la Lombardia libera e per il Veneto libero. Quello sarà il momento in cui ci riprenderemo la nostra libertà. Ancora un applauso forte di cuore a Giancarlo Giorgetti.